Allora, in genere, due altri più per la fastidia, due altri più per la fastidia, due altri più per la fastidia. Grazie. Scusa, sono davanti. Scusa, sono davanti. Allora, la posizione non è delle migliori, ma sono proprio piazzato al volo tra le pedane per darvi una diretta in più. Non sono neanche in formatissimo, dovrebbero essere i 32esimi. Abbiamo anche Bassetti contro Ben Azei. Tanti gli stranieri rimasti in gara, chiaramente qualità di gioco per gli stranieri che si presentano in un torneo internazionale. Non vediamo il punteggio nascosto dall'arbitro. Ok, 2.96, Tomasetti va a scalare a 2.30, non so cosa. Qualità della cronica, me la beccate così come arriva. Ma non posso spostarmi, che siamo incastrati veramente tra il giocatore. Si, qualcuno conosce Stefano oppure condivida lo taghi magari nei commenti così poi può ributtare la diretta. Adesso vedo, magari appena finiscono il lag, di spostarmi un attimo. Niente, è un 130 da 3. Solo 38 punti per tricol. Non vedo il punteggio di Tomasetti, adesso vediamo un attimo, 84. Vediamo se riesco a spostarmi appena finiscono questo lag, senza dare fastidio agli altri. 12 rimane per tricol. Sta in chiusura, non so quanto. E' un 18, ovviamente, uno singolo. Ah no, corretto, 25, allora 25, 8, doppio. Entra, cerco di spostarmi un attimo. Ok, da qui vediamo decisamente meglio, anche il punteggio. Tanto che scendono, vi volevo far vedere, stanno giocando tutto intorno, Alex Bassetti, alla sinistra. Sono proprio in mezzo a tutto, e insieme a voi. Alla mia destra c'è Fabio Bendoni. Ancora in gara. Questa è Italia Grand Masters, 2022. Torniamo a seguire la partita di Stefano, magari con un occhio, Dono. Ah, posizione molto a destra di tricol. Ci va a coprire il bull. Difficile la vita. Voilà. Più o meno ci siamo. Già in chiusura a tricol. Già in chiusura a tricol. Bene, bene. 3 a 1 in un 18 fret, c'è intanto qua a fianco. Bendoni sotto. Pronto Sebastian, Steyer. Steyer, Steyer. 178, Steyer. 178, Steyer. 6 frecce per tricol per chiudere un altro leg. Basta una. 19 frecce per lui. Parte Stefano. Buonissimi. Buonissimi. No, va bene. Buonissimi. 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 140 ancora, di tricol, spero si pronunci così, sapete che io so qua a guardare la partita come voi, non sono professionista, altri 140 ancora, scende giù, a botta, Stefano ora risponde, 368, Stefano, un 311 triplo e intanto Bendoni esce 411 con 18 frecce, passa Sebastian Bassetti nella padena a fianco e avanti 3 a 0 contro Hazel 3 a 1 tricol continuo a martellare, un altro cintone per lui 159, Tommasetti, nuovo in tripla 159, Tommasetti, nuovo in tripla con la prima, con la seconda, si ferma, 41 139 fatti, 62 rimane lontanissimo Stefano, purtroppo 3 a 20 rimane dopo 10 tre col, Stefano a 282 esterno alla prima metterla a fare e c'è Stefano, salutate tutti ok, Pediano a fianco, rimanendo un po' concentrati c'è Alex Bassetti sul 3 a 1, un vantaggio per lui mi pare, adesso vediamo partito anche il femminile, intanto qua adesso ho un po' più di spazio posso parlare un po' più apertamente femminile dall'altra parte della sala, è partito su una dozzina di pedane, adesso andremo a vedere magari anche quello, qualche foto sicuramente già fatta andiamo al finale di questa, credo siano 32 esimi 3 a 2, 17 frecce per Mr. Bang ora il tiro con break di Alex è una tripla, entrano due, centone per Alex Bassetti vediamo se riesco a zoomare un po' 60 punti per Bang 42 punti, bene al tiro mentre uno triple per lui 60 punti fatti 2,99 Bassetti parte dal 19 entra il triplo 20 poi 99 punti fatti, 200 punti rimangono 5 singolo entra la tripla con l'ultima freccia un giocatore inglese vedo anche Rosco in fondo ma non vedo il risultato chiaramente non si può seguire tutti nuovo Alex in tripla centone da chiudere, chiude due frecce porta a casa la partita c'è anche Aurora a complimentarsi con lui saluto la diretta da qua andiamo a fare un po' di foto ci rivediamo probabilmente sul pedanone per le prossime ciao a tutti grazie Maurizio ciao ciao a tutti 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 ciao a tutti